Non si smette mai di guardare e di, non dico di essere influenzati, ma non si smette mai di studiare. Questo credo che sia una delle, come dire, fa parte proprio del nostro modo di essere. Un architetto, un designer non smette mai di essere curioso, pertanto non smette mai di guardare.